Weyla, eccoci qua con il nostro update partendo dal solito Bitcoin Allora, come tutti i piani che abbiamo messo su Telegram praticamente si stanno verificando come anche tutto quello che abbiamo detto sostanzialmente qui abbiamo ormai diciamo 80-90% fatto il nostro top del settimanale inverso, no, siamo assolutamente in linea poi col fine settimana in più, giorno in meno, ma siamo assolutamente in linea, vedete top del settimanale inverso e quando è iniziato a rompere le strutture abbiamo sortato praticamente la morte adesso qui anche sul Telegram avevo annunciato che era partito un giornaliero sostanzialmente avevo annunciato un piccolo long, io onestamente non è che ci credevo avevo infatti detto io, beh, qui, diciamo quando si fa questo tipo di trading allora, quando si guarda la situazione macro, dico, si vive un trimestrale alla volta qui parte trimestrale, viviamo questo trimestrale, no? però quando poi si fanno i trade, diciamo, intraday o settimanali uno può anche dire, vive un settimanale alla volta, vive un giornaliero alla volta cioè nel senso, io qui so che è partito un giornaliero ormai sì, struttura, tempo, rottura di un mini livello, siamo sopra da tot, eccetera quindi quanto è passato un giorno? Cinque ore? Sì posso immaginare che se questo è il top del settimanale inverso a sto giornaliero faccia schifo? sì, ne sono sicuro? No, io non ho la sfera di cristallo quindi io qui quando è partito il giornaliero io avevo detto, allora, io qui è quasi sicuramente partito il giornaliero ho scritto su Telegram se andiamo a rompere questa robettina qua in sulsa perché questa robettina qua in sulsa? per il semplice fatto che questo era praticamente l'ultimo o il primo, l'ultimo, diciamo l'ultimo ciclo a tre ore di tutto questo movimento giornaliero l'ultimo, non ha rotto i minimi sta ripartendo qui praticamente un po' in anticipo sulla rottura conferma totale di questo sta per rompere un massimo ha fatto comunque una bella legata ha detto, se mi rompe qui, cosa faccio? io entro long e intanto vediamo, magari va a chiudere un po' di inefficienze anche soltanto qualche inefficienzina, roba così e se fa di più, noi siamo dentro con qualcosa perché non è detto cioè, nel senso, non sia la scarpaggia magari faceva quella schifezza che ha fatto anche l'altra volta tutto è possibile guardate cosa aveva fatto l'altra volta poco prima del top assoluto pump, dump, pump cioè, magari la vedevo dura anche perché una roba così sicuramente c'era qualcosa c'era Paoletto che parlava Powell, non lo so, mi ricordo però, insomma io so che è partito un giornaliero e io mi metto io un longhetto lo provo, no? a sto punto, visto che c'ho ancora tutti gli short su al massimo mi ha un po' di protezione poi, cosa è successo? beh, io dormivo però ho detto se mi rompe qui entro e se... se mi rompe qui entro però se mi rompe poi questo massimo qua io sapete cosa faccio? io mi metto in stop a zero perché non mi fido di questo giornaliero quindi se mi rompe questo entro se mi rompe questo che l'ha rotto di niente praticamente io ci caccio lo stop a zero e vado a letto se poi fa questo e ritorna giù pace appena mi sono svegliato praticamente mi sono trovato che era qui e ha rotto e mi è andato in stop a zero e subito dopo ho avvertito beh, allora questo cosa significa? significa che questo giornaliero fa schifo cioè è partito ormai sono ore che è partito sono ore che è partito qui dentro abbiamo vari cicli da tre ore no uno due tre no abbiamo vari cicli da tre ore questo si può vedere se è il primo o no alle volte quando è così io preferisco partire da qui questa è una sorta di pseudolingua di baie e e dove è andato? sto giornaliero da nessuna parte è andato quindi quando io ho visto che mi è andato in stop a zero lo short e qui è partito un altro ciclo a tre ore cosa è che succede? roptura della struttura retest di ripartenza e ho subito detto a tutti ok qui io apro un altro short a questo punto mi giro e apro un altro shortino così e per ora magari mettendomi sopra non solo qua retest ma sopra la lateralità insomma se si rompe anche questa lateralità in cui sicuramente qui hanno come tra l'altro mi ha fatto noi perché mi hanno fatto due o tre short qui vedete vuol dire c'è l'accumulo degli short quindi insomma va sopra qua vuol dire che sta cambiando qualcosa ecco fare qualche spike però darci sopra e adesso il target è quello che mi aspetto cioè voglio che ritorni in questa zona qua questa zona rossa qua siccome teoricamente non abbiamo finito adesso il mio obiettivo sarebbe ideale sarebbe un ritorno magari piano piano qua adesso poi qua magari ti riaccumula ti fa un altro giornaliero così un po' di pesche eccetera e poi ti parte se dove se sei secondo i piani e va a farti inizia tutta la la cavalcata finale la cavalcata finale per il top del trimestrale inverso che è prossimo settimanale insomma prossimo settimanale poi pili fine settimana eccetera insomma abbiamo ancora i nostri dieci giorni se tutto va come da programma però quella qui dal top a quello che abbiamo fatto oggi bisogna stare attenti perché abbiamo già fatto 80 giorni non è che queste robe sono degli orologi svizzeri abbiamo già fatto la rottura di questo top di conferma della partenza trimestrale che sarebbe stato praticamente il minimo target ad arrivare a questo top ma riromperlo siamo già stati rigettati male perché non solo l'abbiamo rotto ma siamo proprio arrivati nella base di tutti questi volumi no? e questo era il bottom quindi il primo retest della base era a 28,5 no? circa noi abbiamo fatto abbiamo fatto proprio vedete appena abbiamo messo un mignolo sulla chiusura di questa inefficienza siamo stati rigettati male e quindi abbiamo continuato fino a sostanzialmente chiudere l'inefficienza quindi già come struttura potrebbe anche chiudere i giochi così eh bisogna stare molto attenti potrebbe chiudere i giochi così adesso si vedrà si vedrà qui cosa farà adesso sicuramente qui abbiamo vari settimanali giornalieri di chiusura di questo settimanale abbiamo un dxy che pompa quello lo vedremo meglio nel prossimo video che li faccio tutti sto giro qui vedete abbiamo ancora un bel po' di giorni già un bel po' di giorni insomma non troppi abbiamo almeno almeno tre giorni dovremo avere di ribasso qui il fine settimana conta quello come il 2 di briscola però praticamente qui abbiamo un giorno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perché mediamente ne fa 10 fin di settimana e mezzo vengono 10 giorni generalmente fa se uno conta anche i giornalieri che c'è nel fin di settimana mediamente il settimanale sono 10 giorni ecco qui siamo abbiamo fatto qua 1 2 3 4 5 6 7 partito 7 devi chiudere l'ottavo poi devi chiudere il nono e poi siamo lì può anche partire un po' prima al nono ma anche può anche partire dopo all'undicesimo e bisogna vedere anche dove siamo come price action se rimaniamo in tutta questa zona qui anche 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 fino a 26 cioè proprio al limite però è perché arrivare al 26 non è buono non è assolutamente buono dovremmo almeno rimanere sopra i 26 6 sopra questo POC qua e arrivare fin qua giù cioè vuol dire aver perso tutto il settimanale tutto non andrebbe assolutamente bene diciamo che se rimaniamo sopra 26 6 abbiamo ancora tempo per fare l'ultima abbiamo tempo abbiamo la price action sistemata bene per fare l'ultimo tentativo d'assalto ecco quindi per bitcoin più o meno ci siamo allora visto che avevamo una pacata infinite del coin allora io ho fatto uno screening vediamo un attimo del coin io ho fatto uno screening per capire bene come sono non in infinità e le avevo sistemate su una settimana adesso qui insieme non le sistemo tutte perché se no non abbiamo video di due ore però vi dico la mia modalità di screening allora semplicemente vado con l'indicatore che ho settato io questo indicatore indica i trimestrali messo così no come tempistiche il periodo 520 candele su 4 ore che significa se io prendo 520 candele su 4 ore te sono circa 90 giorni si può anche allungare un minimo era per avere un segnale un attimo prima ecco ecco è una specie di indicatore con delle medie sistemate ma anche con la volatilità eccetera insomma mi indica quando parte è abbastanza anche preciso quando parte allora se io metto verde vuol dire che è già partito il trimestrale senza ombra di dubbio e il trend è rialzista no e quindi teoricamente se come screening io come 6 verde dovrei essere già dentro o al massimo se mi chiuso il settimanale di bitcoin e mi fa un minimo dovrei fare una piramidazione no arbitrum verde no dovrei essere già dentro verde dovrei essere già dentro no poi quando è verde bisogna anche vedere perché poi ad esempio qui questo è già molto esteso potrebbe anche fra un po' diventare rosso quando invece li metto in azzurrino vuol dire che sono lì che sono ancora da osservare tipo questo appena appena fatto il crocio neanche non c'è neanche conferma sta ritracciando ecco questo ad esempio è da attenzionare in azzurrino da attenzionare per i long c'è qualcosa di attenzionare per i short vediamo questo ad esempio è in rosso attenzionare per i short perché vedete storge ha fatto un pump della madonna sono ancora dentro che culo storge non l'ho neanche cagata sono entrato per sbagli guarda che carina storge mi ha fatto una cavalcata senza senso guarda che roba 120% wow sono ancora dentro perché avevo preso tutto quasi brutto brutto qua poi quando è ripartito bitcoin sono io ho detto beh questa è carina non so vuole andare su rientriamo e sono ancora dentro che bello almeno qualche volta vanno come devono andare vabbè resta il fatto che invece vedete questa è una delle poche che c'è al coso rosso perché sta praticamente appiattendo qua sopra e ha raggiunto dei target e l'ho messa rossa poi c'è un minimo di soggettività vet perché è rossa perché sta accorciando a ribasso no vet invece sta accorciando a ribasso ad esempio questa è che ha già fatto il movimento probabilmente in anticipo e non sta già aggiornando i massimi anzi sta già accorciando a ribasso Stellar rossa è proprio giù è proprio giù perché Stellar va in in combricola con XRP sono due sorelle no e XRP e Stellar fanno sempre dei trend fuori statistica cioè non quando Bitcoin si muove si muove ma quando si muove i cazzi loro non si capisce però generalmente sono ancora tutte sulle controllate tutte tra il verde l'azzurrino algo verde partita Agix azzurrino perché ha fatto un brutto scarico però è ancora in zona attenzione no tipo questa io ero già entrato long e mi è praticamente tornata a zero AVAX azzurrina non ha ancora accorciato stessa roba queste sono tutte quelle che poi tra l'altro hanno fatto il primo movimento quelle azzurrine perché quelle che hanno fatto che sono ad esempio verdi prendiamo AVE ha fatto due movimenti cioè sta facendo due movimenti è un po' come Bitcoin partito prima settimanale secondo settimanale no vedete primo settimanale secondo settimanale adesso si spera che faccia il terzo mentre e quelle praticamente verdi sono così al di là dell'indicatore che ovviamente non è che posso controllare tutti i movimenti i livelli chiave eccetera mi avvalgo di questo perché sennò come si fa a fare uno screening di infinita ma anche dell'arresto del mercato che sto usando e quindi ha fatto due movimenti mentre ad esempio un AVAX è a malapena il primo primo e adesso sta ritracciando e quindi è in fase di attenzione quelle che sono ad esempio azzurrine potrebbero essere in ottimi momenti in cui hanno fatto solo il primo impulso primissimo e adesso le vai a riprendere in modalità trading perché ci sono due modi per prendere l'alcoin come forse ho già detto quando bitcoin fa la prima mossa oppure quando sta per perché siamo vicini tipo sei in questa zona qua e sta per fare la chiusura del trimestrale oppure da primi segnali di ripartenza trimestrale allora uno cosa fa uno spot non con le leve spot magari si mette degli alert su delle alcoin la primissima primissima che avevo comprato mi ricordo che l'avevo anche detto qua era ad esempio gala perché gala aveva fatto un'esagerazione a ribasso eravamo qui ha fatto spabam e io in realtà non l'ho comprata al bottom l'ho comprata qui spot perché bitcoin stava iniziando a partire qui stava tenendo prima è entrata spot perché poi c'era anche anzi no forse addirittura qui l'avevo comprata la prima volta proprio due spiccioli perché c'era questo bottom vediamo aspetta il time frame più alto alto dov'è che l'avevo comprata sì l'avevo comprata qui perché c'era questo bottom era andata velocissima verso questo bottom e ho detto vabbè livello chiave siamo vicini alla fine del trimestrale bitcoin stava ai primi segni di recupero faccio la prima entrata spot però perché dove lo metti lo stop loss che qua siamo ai minimi assoluti dove lo metti no poi è chiaro che sono robe rischiose cioè se uno ha un capitale ipotesi di 10k 10k da investire tra tutti i mercati prende 100 dollari se li butta su gala amen cioè non è che prende 10k e li mette spot poi qui è andata ancora più giù però se io facevo un trade sia che sia spot o con le leve cioè dove lo mettevo lo stop loss che ne so che fa ancora almeno 5 o almeno 10 o almeno 20 non lo so non lo posso sapere quindi questa è anche si può dire un'entrata aggressiva che può anche uno non farla può aspettare le conformazioni o le strutture però cosa succede alle volte alle volte succede che ti parta una missile per dire io ah non l'ho presa non l'ho presa qua perché me l'aspettavo perché me lo ricordo questa ad esempio mi dà fastidio io l'aspettavo qua sotto ad esempio non l'ho presa quando è arrivata qui vedete cosa fanno questa è come un boom e dove la prendi troppo tardi troppo tardi perché ti hai già fatto il 40% quando è partita ed eri già in zone dove dovevi magari fare i primi take profit quindi eri troppo troppo in ritardo no per questo si fanno magari le prime entrate su dei livelli chiave spot quando è il momento quando bitcoin dai primi segnali quando è da tanto tempo che scendono bla 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 per dire da qui quanto tempo è che scendeva 266 giorni non solo se il progetto non è fallito l'azienda non è fallita comunque sono porcherie queste oh cioè attenzione il mio obiettivo non è to the moon adesso il mio obiettivo è per prendere un mega rimbalzo se anche mi arriva di nuovo qui per dire da queste parti qui prima di di crollare no cioè da qui ti fa il 110% poi lasci il pizzichino per il to the moon se vedi che i mercati vanno bene ok però cioè non è che uno deve investirci per il lungo cioè entra ad esempio questo qui che è un bottom magari tiene esagerato qua teneva no bottom qui e teneva un po' quindi uno poteva immaginarsi una ripartenza bitcoin stava ripartendo bla 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 e invece ti ha fatto un'altra leg down però vedete che l'ha recuperato perché sono volatili poi è chiaro fai un'entrata qui e poi ad esempio cosa puoi fare quello che poi ho rifatto un'entrata con le conferme quando è che fai l'entrata con le conferme quando ormai ha settato il bottom poi se uno vuole fare anche un'altra entrata per dire entra 50 dollari qua entra 50 dollari qua entra 50 dollari qua ok va bene sì cioè se pensi che il progetto non sia fallito medi un po' il prezzo e poi ti arriva un prezzo medio che di carico qua io ho fatto così però vabbè insomma poi ognuno fa un po' il suo è l'idea quello che conta prima entrata spot seconda entrata quando sono azzurrine allora uno cosa dice ha fatto già il primo movimento sta già crociando a rialzo sul sul trimestrale sta quasi per no e allora uno si cerca anche le occasioni diciamo a leva perché perché uno dice è partito magari il primo settimanale e poi diciamo è partito da qui è fatto il primo movimento cinque giorni quindi bisogna capire perché qui comunque è tutto un movimento laterale rialzista bisogna vedere se questo è tutto un movimento quello che è comunque qui ha fatto già un primo movimento un primo segnale di lettura un primo tocco primo primo praticamente movimento strutturato in cui ti fa dei lower high dai 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 lower high e lower low ti fa i primi higher high higher low allora dici boh andiamo a strutturarci anche magari qualche trade a leva no prendo questo mi metto sotto i minimi magari non qua non si metteva qui cosa che sicuramente ho fatto qui le avrò mandate su telegram queste cose quindi dice guarda qua sta tenendo prima leg d'up qui sta tenendo mi faccio il primo trade a leva perché qui c'ho il punto di riferimento no qui c'ho il punto di riferimento del bottom qui c'ho il punto di riferimento che mi ha fatto una prima rottura si e questi sono gli azzurri nel senso che sono al primi movimenti e di primi movimenti che puoi fare anche un trade a leva se fai un trade a leva qua vedete 11% se uno dice voglio rischiare magari anche solo 10 dollari no lì viene una size a 100 dollari uguale però poi ti va in stop loss e perdi 10 dollari cioè non hai spot secco poi se uno vuole rischiarsene 100 si fa 1000 dollari di size però si chiama 100 dollari di stop loss io per dirgli cosa faccio siccome siamo ancora in bear market innanzitutto io ad esempio ho fatto tutte le entrate spot che le avevo già dette a tempo no abbiamo fatto tutto il real coin entriamo spot entriamo spot erano partite prima mi sono andato un po' in drawdown tipo gala eccetera però spot stanno lì cioè aspettiamo no spot stanno lì anche matiche l'avevo comprata spot in questa zona qui ricordo no stanno lì poi cosa che succede vedi anche matiche azzurrina perché sta accorciando ha fatto solo sostanzialmente il primo movimento e adesso sto facendo il ritracciamento poi ad esempio primo movimento di tracciamento ma adesso quando è che si entra cioè io non posso guardare ogni altcoin una ad una io cosa faccio io adesso primo movimento su una azzurrine aspetto bitcoin chiaramente bitcoin cosa fa sta per chiudere settimanale per dire tutte le entrate che si è fatte sugli altcoin che ha fatto una carrellata ad esempio su telegram no infinita una carrellata infinita io le ho fatte qua tutte qua perché perché qui avevamo l'evidenza che ha fatto bitcoin il primo movimento settimanale e ho aspettato anche il primo giornaliero di rottura del settimanale cioè doppia conferma sta partendo un altro settimanale e da qui in questa zona qui boom entriamo a naffica sui altcoin perché sono troppo volatili cioè nel senso bisogna avere doppia conferma se entri a leva invece se entri spot ti basta molto meno conferma aspetti il livello chiave casomai vai in drawdown del 10% pazienza no adesso io cosa farò pure altcoin adesso aspetto ad esempio la chiusura del settimanale che è qui sotto per vedere se comprarne altre se piramidare eccetera aspetto la chiusura del settimanale ipotesi chiude qui arrivare qua qua sotto è un po' una pigna diciamo che magari arriviamo fino a qui ipotesi toc qui e poi aspetto il primo giornaliero rialzista e il ritracciamento del primo giornaliero rialzista no? ah il primo giornaliero al ritracciamento del primo giornaliero rialzista vado sul mio screening controllo come sono messe e faccio o certe che non ho ancora preso eccetera e faccio un'altra piramidazione long va bene e quella però sarà l'ultima da questo punto perché se l'obiettivo è che adesso abbiamo solo un settimanale inverso rialzista sarà l'ultima piramidazione sostanzialmente perché poi qui adesso anche come tempi cosa dovrebbe fare guardando anche l'inverso sopra qui c'è il mezzo inverso quindi potrebbe scendere fino a poco prima del mezzo fare aspetta mettiamo anche il grafico così lo vedete meglio potrebbe scendere un po' di giorni no? poi arriva praticamente dove c'è la chiusura del settimanale qui ti fa la prima partenza magari cattiva che però è solo il top del mezzo settimanale inverso a questo punto ti fa il ritracciamento ed è corposo questa è la nostra entrata per il coin quindi uno evita questo perché se entra il primo impulso si vanno tutte su però poi vanno tutte giù di nuovo avete capito quindi è sempre più rischio visto che comunque lì sono entrata a leva c'è lo stop loss ti saltano tutti gli stop e poi cosa che fa ti rompe il centro del settimanale inverso come conferma del mezzo settimanale inverso come conferma e va verso i massimi qua questa zona chiaro che questa è la nostra view anche per bitcoin e qui da questo punto qua se bitcoin va verso i 29 30 e anche il coin potrebbe fare la loro gamba rialzista delirante perché se fanno in eccesso fanno il 100% senza senso no? allora io cosa farei come ho fatto prima siamo comunque in bear market queste sono ancora delle view che possono anche essere annullate per esempio ti fa il centro e poi ti rompe qui ti rompe questo minimo cioè è un disastro praticamente vuol dire che qui abbiamo già fatto il top del trimestrale inverso e si va agli inferi dopo no? bisogna sempre stare attenti su queste cose si mettono gli stop eccetera però si apre uno short ad esempio qua ad esempio per bitcoin per coprire ancora però quello che voglio dire è che sostanzialmente sono quelle occasioni che capitano una volta ogni trimestre ma neanche ogni volta ogni semestre una volta ogni 9 mesi no? queste e quindi io cosa farei ad esempio non so dipende dal portafoglio da quanto avete voi io ad esempio cosa ho fatto nel secondo giro avevo ipotesi una trentina di altcoin azzurre che le ho messe tutte su telegram no? cosa faccio mi cinvesto la casa che comunque è una roba rischiosa no? ho detto prendo in 300 dollari no? ipotesi che per me possono anche andare persi no? è il mio rischio totale 300 dollari che possono anche andare persi persi fine cioè e metto per ogni setup 10 dollari di stop no? quindi se facciamo quel setup che abbiamo detto con gala ipotesi no? io metto su telegram il setup che abbiamo detto poterci quando è ora come ho messo qua quindi qui è il momento di entrare long su gala con il setup non spot no? qui abbiamo 10% di di distanza boh 10% di distanza quindi se io metto 100 dollari sostanzialmente di size per 10 dollari quindi uno va sui futures si mette tutto cross si apre 100 dollari che però cosa bastano per fare questo? bastano mettere 300 dollari sui futures no? ti metti 300 dollari sui futures usi le leve massime chi se ne frega perché non ti interessa che leva usi quando sei cross ti interessa questo ti interessa che tu metti lo stop loss giusto se ti va a prendere lo stop loss non importa che size hai messo cioè importa solo la size che hai messo no? quindi metti 100 ti arrivi a prendere lo stop loss qua per 10 dollari e quindi puoi aprire 30 al coin con tutte con 10 dollari di stop con solo 300 dollari di rischio e sostanzialmente mediamente ti verrà praticamente circa 100 dollari per al coin e si 100 dollari per al coin le cose che succedono una volta ogni 3 mesi forse sempre così ogni settimana saremmo tutti ricchi però sono cose che aspetti neanche nei 3 mesi alle volte aspetti anche dopo 6 mesi però sono le occasioni da non perdere perché se tu ad esempio fai una cosa del genere e iniziano a farti veramente il movimento da 100% tu fai praticamente il doppio non di 300 ma il doppio di 3000 e quindi da 300 dollari che tu hai rischiato rischi di andare a fare un guadagno capito di 3000 6000 immaginate poi se facciamo una cosa del genere inizia il bull market serio non penso proprio toglietevelo dalla testa però se poi facciamo sempre queste cose qui nei momenti giusti come qui non è che era iniziato il bull market però quando si è fatti questi tipi di movimenti qui cioè guardate poi cosa ha fatto cioè il 250% quindi immaginate andiamo nei frame bassi e vediamo e vediamo questo gala se eravamo messi qui torniamo indietro comunque vedete che era inizio di quest'anno quindi una volta ogni 9 mesi come stavo dicendo ecco qui siamo in azzurro qua praticamente ha fatto il primo movimento oppure addirittura quassù però siamo in azzurro quindi cosa facciamo qua ci mettiamo il nostro long siamo in azzurro il ritracciamento sta tenendo ha fatto tutto il primo movimento bitcoin sta salendo c'è un furia nel mercato e dico ok adesso mi faccio il primo setup 15% quindi qui diciamo 75 dollari come size e rischi 10 dollari no? ipotesi e dove va? prima di invertire e non ti inverte mai fino a quassù ovviamente tu non prendi i massimi perché cioè come fai sapere bene i massimi si bisogna stare sul pezzo però guarderai bitcoin quindi quando è ora che bitcoin inverte eccetera ti rendi conto che sei qui e ti sei fatto il il tuo buon 181% che però sulla size di 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 75 dollari significa 11 volte quindi fai praticamente 11 no dove cavolo è la calcolatrice quindi con un rischio di 10 dollari perché quello l'importante è che con un rischio di 10 dollari ti sei fatto 825 no? con un rischio di 10 dollari sei fatto praticamente un 82.5 quello è cioè è questo quello che conta no? quelle rare volte però vedete quante volte è successa questa cosa rara perché poi quando uno entrava qui faceva molto meno quando uno entrava qui non faceva praticamente niente qui non non era sufficiente sto movimento sicuramente andavano tutti stop a zero quando andava qui già facevi qualcosa e questo è ogni volta ogni tre mesi 30% questo dopo tutto questo movimento qui ci sta che anche se dopo si torna all'inferno faccia un bel movimento a rialzo secondo me se andiamo a prendere ad esempio un po' di POC per analizzare questa specifica abbiamo addirittura il mega POC qua cioè per assurdo anche se torniamo in bear market secco potrebbe addirittura farti il pump fin qua e abbiamo visto fare ste robe per dire prendiamo Solana che fa cagare Solana Solana fa schifo Solana però anche nel suo fa schifo vedete quando è nata in scatafascio no dopo dov'è tornata prima di ritornare giù qui secondo scatafascio è tornata al POC e sono 120% ha fatto e poi è ritornata giù però cioè anche qui scatafascio uno prendeva un attimino qua la situazione in cui stava invertendo con uno stop qui e cosa si è fatta da qui a qui si è fatta un 150% no queste sono le cose che si devono prendere quando è ora quando è ora non a caso per dire qui questo è un trimestrale esatto 87 giorni qui solana infatti è azzurra è verde perché è già partita ha fatto già due movimenti infatti si vede qui ha fatto il primo primo botton primo settimanale solana che tra l'altro c'è il setup ancora messo che probabilmente ve l'ho messo su telegram è il setup eccolo qua cioè aspetta questo setup mi sa che è quello dello spot ancora di tempo fa perché il setup di solana probabilmente era questo qui si vede ad occhio quindi magari eravamo o qua o qua ovviamente siccome ho aspettato il primo giornaliero e il rialzista eravamo qua questo era il setup anche questo sul 10% quindi con 10 dollari adesso uno dovrebbe essere già in guadagno di circa 20 dollari però non è questa l'idea l'idea è che magari arrivi anche fin qui no se arriva fin qui insomma uno se ne apre se ne apre sarebbe un guadagno di circa 50 però se ne apre 30 per 50 medio e si fa dei bei soldini no con un rischio basso quello è il problema rischio basso e se non c'è il rischio basso ti bruci la casa allora non hai capito niente perché adesso qui ripetiamo no adesso io non ho chiuso nessuna il coin perché perché mi aspetta ancora questo top di trimestrale inverso che arrivi l'ultimo movimento ma non è detto il 100% che arriva magari abbiamo chiuso qua i giochi se abbiamo chiuso qua i giochi tutte quelle al coin là adesso gran parte mi andranno o in stop loss o a 0 o stop a 0 dipende come se erano impostate no lo scopriremo a breve perché adesso quando inizierà a farmi la chiusura del settimanale e la ripartenza del settimanale si vede A da che livelli sei B come parte e bisogna vedere come mettere ad esempio tutti i stop a 0 e settare tutte quelle già aperte eccetera a quel punto se fanno tutti i stop loss a 0 io mi tengo comunque lo short qua di bitcoin a quel mezzo trimestrale e mezzo settimanale inverso quando ripartirà al settimanale perché di solito farà così no ripetiamo molto probabilmente farà così quando ripartirà al settimanale guardiamo sul time frame più basso e guardiamo sotto per avere perché bisogna avere sempre milioni di conferme non si fanno mai le cose a caso se si fanno le cose a caso si bruciano soldi però tanto io ve lo dico su telegramma se devo pulsare al momento e quale entrare no cosa succederà qui prima in quasi in contemporanea abbiamo la chiusura del settimanale e il mezzo trimestrale inverso quindi quello che capiterà molto probabilmente è che magari prima chiude il settimanale e poi fa il primo pump e quello sarà il top del settimanale inverso e qui poi si capirà se è un settimanale che fa schifo abbiamo già fatto il top eccetera vuol dire che andiamo a rompere e andiamo a vincolarci a ribasso ed è finita salutiamo tutti è stato bello per tutti quanti ed è finita se invece poi anche se fa un bel pump e poi fa un bel ritracciamento riparte fatta no è fatta perché allora vuol dire che ci vincoliamo a rialzo per tutta l'altra seconda parte del settimanale inverso il settimanale inverso questo chiude così mettiamolo in arancione quello del base chiude così il settimanale inverso poi ti fa invece ti fa così tac e poi ti ritraccia e ti va su ti rompe ti vincola qua rialza e poi va su fino alla fine spero sia stato chiaro questo video lungo ci sono tante del coin ma a questo momento non si entra nel coin si aspetta ovviamente si aspetta il fine settimanale il fine del ritracciamento insomma di bitcoin qui adesso nello specifico sto short sta andando sto giornaliero qua se andiamo a vedere finalmente anche cose di brevissimo qui cosa bisogna fare è molto debole molto debole questo giornaliero fa schifissimo infatti qui abbiamo aperto un altro short abbiamo aperto adesso qui come tempo siamo a metà cosa significa che probabilmente quando chiuderà la metà magari tiene ancora qui o tiene ancora qui per la metà del tempo quindi chiude qui poi ti fa un bel un altro magari bel rimbalzino e poi ti va a vincolarti a ribasso chiaramente se già adesso prima ancora della chiusura del metà cioè per la chiusura della metà ti fa già così è già vincolato a ribasso il giornaliero e andiamo giù relativamente forte relativamente perché ormai siamo vicini a quelle aree che dovrebbero iniziare a tenere il prezzo cioè anche qui se continuiamo a scendere scendiamo in modalità tra virgolette qui non c'è niente vuoto boom adesso da qui in poi dovremo diciamo scendere in maniera controllata fino alla chiusura dovremo essere un po' controllati come prezzo così tac tac se ovviamente poi oltretutto dobbiamo ripartire perché se dopo non dobbiamo ripartire e che perdiamo questo livello in maniera grave e andiamo qua sotto e vabbè buonanotte è finito tutto è stato bello ci siamo divertiti abbiamo fatto qualche gain e ora andiamo in bear market grave per mesi perché quella è perché se abbiamo fatto questo top è stato l'inverso solo così crolliamo e abbiamo 5 mesi di disastro sostanzialmente adesso faremo il video del resto del mercato che anche quello è in crisi per questo video è tutto ci vediamo alla prossima ciao